Tutto pronto per la terza edizione di Noto e Senza Tempo. La rassegna di musica antica in programma dal 25 settembre al 19 dicembre 2021 debutta questo sabato nella chiesa di Santa Maria in Bethlehem con alcune novità e consuete collaborazioni tra cui quella con i conservatori dell'isola e l'interfaccia con l'unico portale italiano di Bach. Punteremo tanto come sempre sulla qualità della nostra proposta e sull'inserimento del nostro festival sempre più in una rete europea. Essendo il nostro l'unico festival del centro nord Sardegna che parla appunto di questo tema musicale Sassari e il territorio sassarese e del nord Sardegna ormai si inserisce prepotentemente a livello europeo. Dialogo quindi con festival nazionali e internazionali e come nelle trascorse edizioni l'apertura verso i giovani del territorio confermata anche dal concerto congiunto tra i conservatori di Sassari e Cagliari e la partecipazione di due giovanissimi esecutrici. Noi siamo lieti di offrire ai nostri studenti la possibilità di esibirsi in particolare nel concerto che si farà il 23 ottobre con la nostra orchestra e la partecipazione del professor Atidio Mozzo specialista nella musica barocca e nella musica antica. Noto e senza tempo è finanziato dalla Fondazione di Sardegna con il patrocino dell'Arcidiocesi di Sassari e il supporto del Conservatorio Canepa di Sassari col diretti confesercenti e liceo musicale coreutico a Zuni. Tra i sostenitori anche il comune di Sassari oggi rappresentato nella conferenza stampa dal neoassessore alla cultura Nicola Lucchi.